Radio Bruno Scritto sulla pelle, canzone dei Negrita, la nuova, una delle nuove canzoni dei Negrita dal nuovo album che è il decimo Desert Yacht Club, finalmente i Negrita sono venuti a trovare Che bello sentirvi pronunciare quel nome lì che a me non riesce a dire Desert Yacht Club, no mi riesce però all'inizio è stato un po' uno scioglilingua Ciao a tutti Io sento qualcuno che dice Desert Yacht Club, ho sentito qualcuno Io ho sentito qualcuno che dice Benvenuti sempre on the road, oggi tappa a Radio Bruno e ci fa molto piacere Bentornati perché era da un sacco di tempo che non vi avevamo qua Non conoscevamo questa sede nuova Vero, dovremmo tirare un po' le orecchie Negrita perché li abbiamo già invitati Non ce l'avevano fatta a passare invece questa volta ce l'hanno fatta e ci hanno portato anche un bel album nuovo Noi prova a tirarci l'orecchie No 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 guarda avete le cuffie non posso, pare che siete altissimi Comunque noi qua siamo venuti la prima volta nel 94, prima di te credo No ragazzi io ero qui nel 93 sai E Pau ci ricordava anche di me, ha più memoria di me tra le altre cose Bravo Non si smentiscono mai sono arrivati in furgone tra l'altro Sì Quindi giustamente perché il furgone è un po' anche un simbolo Un simbolo possiamo dire anche di un viaggio che è quello da cui è nato possiamo dire è questo album Dai ci raccontate un po' com'è arrivato questo disco Beh questo disco attraverso vicissitudini abbastanza pesanti a livello umano insomma abbiamo passato un periodo, un periodino si dice ad Arezzo un periodino E avevamo le nostre cose E quindi abbiamo deciso di aggiungere in coda un mini tour mondiale un po' di settimane nel sud ovest degli Stati Uniti e abbiamo approfittato, qui mi rialliaccio te insomma abbiamo affittato un furgone, un polmino diciamo così e ce ne siamo andati in giro a Zonzo con un'attrezzatura minima qualche chitarra acustica Noleggiata anche quella? Sì rigorosamente mai pagato l'affitto Ok C'è un motivo però Un computer, due cassettine e un microfono, questo è stato il nostro studio di mobile Ce ne siamo andati in giro un po' ovunque, metropoli, deserti, canyon a cercare quel mood che ci avrebbe in qualche modo salvato la vita Quindi il mood è arrivato subito per fortuna perché siamo avvezzi a questo tipo di cose E le idee anche, le emozioni, le idee, la creatività Per noi ecco in viaggio il viaggio fa scaturire questo tipo di cose E siamo contenti di essere tornati con un'idea di disco, con un'idea di sound nuovo che io reputo piuttosto originale Anche noi E così, pronti diciamo ad affrontare un altro ciclo come quello che stiamo per affrontare tra poco perché saremo in tour Cesare aveva le sue cose, tu sei pronto per una Le masturbazioni Le cose ce le avevate voi Desert y Hot Club Desert y Hot Club l'ho pronunciato bene Vai vai, va benissimo Va bene anche Desert 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 Il nuovo disco E questo posto esiste davvero? Nella copertina dell'album c'è questa cosa che sembrava un'idea grafica Invece in realtà questa barca nel deserto esiste davvero? È una foto di Drigo che adesso lui l'abbiamo assunto per spiegare la copertina Vai Drigo No, diciamo che questa qua è in realtà un'installazione Alessandro Giuliano Che è il creatore di questa oasi nel deserto Napoletano in California In California, sì, in California, bravo Per l'appunto vuole dare un senso a questa cosa C'è mobilità e vita anche nel deserto Questo abbiamo imparato vivendo là per qualche giorno All'interno di questo, lo chiamiamo resort Ma in realtà sono due roulotte, tre tende Una barca Un container all'interno del quale c'è tutto quello che serve per sopravvivere C'è da considerare che questo posto è isolato Non c'è acqua corrente La corrente elettrica è attraverso un generatore Quindi dopo le 10 di sera, 11 di sera si stacca tutto e vivi così Niente, questi sono pochi dettagli Che possiamo raccontare adesso sul Desert Yacht Club Però è un posto molto suggestivo Che a noi ha dato la possibilità di concentrarci completamente su noi stessi E partire e concepire probabilmente questo kitchen groove Che è lo stile con cui abbiamo elaborato l'album Posso aggiungere una cosa? Certo Simbologia, insomma, in qualche modo Una copertina C'è un deserto con della grafica Insomma, è la barca appoggiata in una duna Con un pirla in cima, che sono la chitarra, che sono io E in qualche modo questa barca così Come si può dire Appoggiata a terra nel deserto È ovviamente un contrasto forte Barca nel deserto Però in qualche modo è come se quella barca fossimo noi Insomma, che abbiamo intenzione di Entrare in acqua e partire di nuovo con una certa grinta E una certa convinzione Quindi ha anche questa simbologia È una nave incagliata che ritroverà la sua navigazione La sua rotta È un po' il simbolo, insomma, non soltanto di questo luogo Ma un po' anche, insomma, di questo album Che adesso andiamo ad ascoltare con un'altra canzone I negrita Quale mettete ragazzi? Vogliamo mettere Voglio stare bene Adesso ci dovete dire I negrite per stare bene Come devono stare Che cos'è per voi il concetto di stare bene? Via Beh, difficile Si può stare bene in tanti modi Si può stare male in altrettanti Forse anche di più Non lo so Una certa tranquillità di sicuro per una rock band È importante E noi la tranquillità ce l'abbiamo anche a casa Nel senso che ormai siamo genitori navigati Per rimanere in tema nautico E quindi questa è una base che ci fa stare tranquilli Poi ogni tanto noi partiamo Ce ne andiamo per le nostre crociere In giro per il mare Diciamo così E lo stare bene è la condizione Dalla quale sgorga la nostra musica Quando stiamo male È un casino ragazzi Fra l'altro nel testo dici Voglio stare bene su questa barca Anche no E non va Ed intorno è sempre la barca Del kitchen groove style Dopo ne vogliamo parlare Perché è molto carina questa cosa Dopo ce la raccontate meglio Intanto sentiamo la canzone Questi sono le negrite E allora voglio stare bene Vai, presenta Vai, vai No, così Devi prendere l'intro Vai, con l'intro Ok ragazzi Questi sono le negrite Ospiti da noi E questa è la loro Voglio stare bene Le negrite Con gioia infinita Negrite qua a Radio Bruno Stavamo guardando anche questo bellissimo video Nel quale vi siete divertiti Un casino Cos'è stato? Una decina di anni fa ormai Eh, più o meno No, non mi ricordo Sì, 8, 9, 10 Sì Non so Adesso mi chiedi troppo Una decina Una decina di anni fa Sì Nel vostro nuovo disco C'è anche un po' di malinconia E un po' di nostalgia del passato In canzoni come Non torneranno più Però avete sempre lo sguardo puntato al presente E al futuro Però vogliamo farvi questa domanda Cosa vorreste far tornare dal passato Intatto Così com'era Come vorreste riaverlo? Io ho perso il portafoglio a Buenos Aires Mi sembra Un solito distratto Drico Cristo Cosa vorremmo far tornare al passato? Sarebbe sbagliato Secondo me pensarla così Insomma Io penso che sia giusto guardare al futuro È ovvio che Le lezioni si imparano guardando il passato Voglio dire I fondamenti di un certo background Te li fai se hai delle basi solide E osservando gli sbagli che Sono stati fatti nel passato Sia a livello personale Che a livello Di società così Noi italiani siamo Invece avvezzi A avere la memoria cortissima E non ricordarsi delle cose Che abbiamo sbagliato Negli anni Passati ma neanche troppo passati E siamo abilissimi A ricommetterli Nel presente Questa è una cosa Che mi fa incazzare Non sei l'unico Tra altre cose Senti abbiamo parlato prima Del kitchen groove style Questa storia Mi piace molto Della sala prove Che viene sostituita Da una cucina Mi piacerebbe che anche la radio Sarebbe molto bella Noi davvero italiani Quando andiamo in giro Per il mondo Nei nostri viaggi Teniamo sempre d'occhio La parte Diciamo che Relativa al nutrimento Alla nutrizione Alla cucina E quindi questa volta Quando sei in giro Con un furgone Affinti la casa Magari il giorno prima È difficile Costruirci Una vera propria sala prove Ma era nostra intenzione Proprio Creare un modo diverso Di comporre Quindi abbiamo trasformato Quello che è La classica cucina Il tavolo nella cucina Nel nostro studio di registrazione Così eravamo sempre A bivaccare Beh ragazzi Vengono fuori Dei risultati come questo Quindi direi che È positiva l'esperienza Lavoravamo Praticamente 24 ore al giorno Avendo una casa A disposizione Dove dormi Mangi Suoni E sogni Il tuo futuro Hai modo di registrare A qualsiasi ora Ognuno con i suoi orari Ognuno con i suoi orari Quindi hai bisogno Anche di avere Delle vettovaglie E robe da bere Di un certo livello Mi hanno detto Che c'è anche Tra di voi Insomma qualcuno Che se le cava Particolarmente bene Ai fornelli Quello che ha iniziato L'argomento Sempre lui Infatti una delle cose Principali Che guardavamo Prima di affittare Una casa Era se la cucina Era adatta Quindi prima Dove fare tu Cucina e tavolo Cucina e tavolo Fornelli Tento lame Il tavolo diventava Veramente la piattaforma Dove il computer Si poggiava E dove cominciavamo A registrare Magari in mezzo ai bicchieri Ai piatti Però così era Chi è invece Che proprio i fornelli Non ci deve stare Tra loro due A questo punto Guarda se la cavano bene In potenza Ma non l'abbiamo mai Dimostrato troppo Abbiamo parlato di musica Abbiamo parlato di cucina Parliamo anche di cinema Perché nel futuro della band Ho letto Oltre ai concerti C'è anche un progetto Cinematografico Un lungometraggio Di Alessio Pizzicannella Per il quale Dovreste scrivere Qualche canzone È vero L'abbiamo detto Così a un passano Adesso è diventato Un argomento Ma non possiamo dire Più di tanto Perché Progetto segreto No non è segreto È un progetto In corso D'opera Quindi non possiamo Arriverà il momento Che verrà promosso Questo film Magari porta Spiga a parlare Esatto Magari porta Giellale Scusa Il nostro amico regista Però insomma C'è un film Con degli attori Massicci Secondo me E noi faremo delle cose Che servono Proprio per la trama Tra l'altro Non solamente con una sonora Però non ci vogliono dire Nulla di più E quindi noi non chiediamo Nulla di più Scritto sulla pelle Invece che è il brano Con cui siamo partiti Prima insomma Ci raccontate un po' Dove è nata Questa canzone È una delle prime Che abbiamo composto In questa Diciamo Nel Kitchen Groove Eravamo a Los Angeles Abbiamo preso una casa Che conosciamo bene La terza volta Che andavamo Che adesso è Diciamo Di Vasco Di Vasco Rossi Tra l'altro Che invece è stata In origine È una casa bellissima In alto A Hollywood Sotto No a non dire dove Perché se no Sotto al Griffith Quindi è veramente Un posto straordinario Un ex Cioè no Una casa colonica In stile spagnolo Bellissima Che era appartenuta A Ron Jeremy Chi ne mastica di porno Anni 70 Sa di cosa sto parlando Cosa ridi Scusa No perché mi ha guardato Che è in certe tante E quindi Scritto sulla Ah per quello l'hai guardato Anzi a noto E quindi Scritto sulla pelle Nantali Una delle prime cose Che abbiamo composto Nel primo Secondo giorno Di lavori Allora noi Adesso vogliamo sentire Un'altra traccia Un'altra canzone Dall'ultimo album Dei Negrita Ma sentitela pure Dai Sei stato così bravo Prima me l'annunci tu No problem Vai Ragazzi sono ancora Ine Negrita E questa è la loro No problem Traccia number two Di Desert Yacht Club Un assaggio Dal loro ultimo album Negrita Desert Yacht Club Questo è No problem Prima di salutarci Concerti La gente voleva sentire Un album nuovo Ma vuole anche Vedervi Noi per primi Tra le altre cose Ricordiamo tre date Che sono le uniche Per adesso Per adesso Sono le uniche In aprile Facciamo tre palazzetti Iniziamo il 10 di aprile Con Bologna Il 12 con Roma E il 14 Il Forno di Assago Milano E poi in estate Vedremo Io vado in Sardegna Te? Ma è un bel posto Col mare caldo Drico in Messico Vedremo Vedremo Adesso ci concentriamo Su questi Noi se volete Un palco ce l'abbiamo Se volete venireci A trovare Il Radio Blu N'estate Noi vi ospettiamo Sempre molto volentieri Se avete un palco Noi portiamo il camerino Benissimo Benissimo Poi ricordiamo anche L'appuntamento Con l'In Store Oggi pomeriggio Alle 18 L'ultimo in store Alle 18 Me la dai testa notizia Alle 18 Benissimo A Bologna A Bologna In piazza Ravegnana Venite che si schianta Da ridere Sì Vero Vero Promesso Ragazzi è stato un piacere Avervi qui Ok Altrettanto esserci Grazie di essere Intervenuti La prossima volta Un prosecco Magari Ecco vedi Stavo per dirlo Grazie per essere Intervenuti in questa trasmissione Tornate a trovarci presto Ragazzi Va bene ciao Noi abbiamo finito Ciao Buon tour A tra poco Su questa frequenza Ciao 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 a tutti Grazie a tutti